A Palazzo Lascaris, il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Bruno Mellano, ha presentato gli eventi nazionali e regionali della comunità penitenziaria piemontese. Dopo i saluti del presidente Mauro Laus, sono stati presentati i progetti dell'Associazione Antigone di Vale la Pena, mercatino dei prodotti dal carcere e della fondazione Casa di Carità, Arti e Mestieri. Il Piemonte con altre poche regioni è una regione in cui i parametri di affollamento in carcere sono scesi nel livello della norma. Abbiamo dei dati che registrano ad oggi 3.551 detenuti per una capienza di circa 3.600 e questo ci permette di rilanciare i progetti di recupero, di reinserimento, di avviamento al lavoro, di percorsi di socializzazione per i detenuti piemontesi. È una sfida, dovremmo lavorare per rendere la pena davvero utile laddove necessaria, laddove doverosa. L'esperienza di Vale la Pena, che è questa esperienza di produzione vinicola nel carcere di Alba, ha proprio l'obiettivo attraverso l'attività lavorativa di preparare le persone al reinserimento nella società e anche il fatto di promuovere attraverso un mercatino che prende il nome del vino vale la pena di far conoscere ai cittadini le esperienze interne con lo scopo di aiutare le persone a reinserirsi nella società.